E siamo tornati su The Giro, bentornati amici investitori e benvenuti qui su Vivere di Dividendi, io sono Daniele e continuiamo la nostra bellissima carrellata sugli ETF, in questo caso sempre della categoria di The Giro. Per chi non lo sapesse, noi periodicamente aggiorniamo la nostra playlist relativa agli ETF, che vi lascio qui sotto in descrizione e nelle schede andate a dargli un'occhiata, relativa a dei settori, a dei trend, a delle aree geografiche in particolari e abbiamo anche una specifica sezione per quanto riguarda gli ETF che si possono trovare gratuiti su The Giro. Per chi non lo conoscesse, The Giro è un broker molto noto per comprare, vendere, azioni, ma ha anche una interessantissima funzione, ovvero che ci sono diversi ETF che si possono acquistare senza le commissioni di ingresso e di uscita all'interno del broker. Quindi abbiamo lanciato diverso tempo fa questa sfida nel riuscire a trovare i migliori ETF all'interno di The Giro che si possono acquistare in maniera gratuita proprio su questa piattaforma. Quindi non perdiamo altro tempo, sigla e cominciamo. Come al solito io vi ricordo questi non sono consigli finanziari, noi non siamo dei consigli finanziari, ma questa è semplicemente una panoramica generale di quelli che potrebbero essere degli asset interessanti da poi approfondire individualmente. E inoltre vi ricordo ovviamente di andare a dare un'occhiata sia The Giro, vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete registrarvi, è un link affiliato, sia a Track Inside che è il programma che noi utilizziamo per analizzare gli ETF. È veramente molto completo, compatto e semplice, ve lo consiglio. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci nel continente asiatico, in particolare in Cina e Hong Kong, con l'ETF numero 1. L'ETF numero 1 replica la società cinesi più grandi e liquide quotate all'interno della borsa valori di Hong Kong. Questi ETF sono incentrati all'interno dell'area geografica Cina-Hong Kong, se non si fosse capito. Per quanto riguarda le dimensioni, cominciamo subito. Le dimensioni non sono nulla di eccezionale, non superano il miliardo, sono anche poco più di mezzo miliardo, però devo essere sincero, ci può anche stare. Io non mi spaventerei così tanto, è una dimensione tendenzialmente media. Per quanto riguarda i rendimenti, lo vediamo subito. Nell'anno corrente ha fatto dal 2021 circa il più 6,28%, nel 2020 il più 28,50%, nonostante la pandemia si è performato meglio addirittura del 2019 con un più 22,62% e poi il 2018 lo sappiamo che non è stato un anno perfetto per i mercati con il meno 19,25%. Ovviamente stiamo parlando di un ETF molto volatile, ma perché dipende ovviamente dal sottostante. Stiamo comunque parlando dell'intero mercato cinese e quello di Hong Kong. Per quanto riguarda i dati che vi ricordo si trovano in questa sezione di Track Inside, dove ci sono riportati tutti quanti i dati più significativi, le cose che personalmente guardo sempre sono la data di dedicazione, in questo caso del 2011, quindi vuol dire che abbiamo una decade di storia, di storico a cui poter fare affidamento. Ovviamente rendimenti passati non equivalgono a rendimenti certi futuri, però è meglio avere un ETF sicuramente più longevo piuttosto che uno recente. Quindi il 2011 comunque è veramente ottimo per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda invece la politica di dividendi, la politica in questo caso è a distribuzione e non ad accumulo, quindi perfetto per una strategia di distribuzione per chi vuole i dividendi. Ha un TER, ovvero un costo degli ETF, del mantenimento degli ETF anno, dello 0,30%, che è molto accettabile. Stiamo comunque parlando di un ETF settoriale, che però non comporta nemmeno i costi medi. Quindi consideriamo un TER medio dello 0,40%, lo 0,30% a mio parere è veramente accettabile per chiunque e soprattutto la cosa che in assoluto mi piace di più di un ETF, la replica, la replica che è diretta e non è sintetica. Quindi la società che ha emesso l'ETF acquista direttamente delle quote, in parte delle quote, per poi dopo andare a replicare l'andamento dell'intero settore. Andiamo avanti invece. Per quanto riguarda l'esposizione, andiamo leggermente più in basso. L'esposizione geografica non ne sto neanche a parlare, ovviamente è quasi totalmente Cina e in questo caso c'è pochissimo, pochissimo Hong Kong. Per quanto riguarda le valute nemmeno ne vado a parlare. Mentre è interessante l'esposizione settoriale, perché comunque nella media c'è tantissimo TEC, lo vediamo, però è una cosa abbastanza normale. Ultimamente moltissimi degli ETF sono tanto incentrati sul TEC quando sono geografici e non tanto settoriali, ma comunque c'è un'altra diversificazione nel customer, financial, healthcare, industriale, telecomunicazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece la diversificazione del portafoglio, si tratta di un ETF che ha al proprio interno 643 aziende, quindi veramente grande come portafoglio e a parte le prime due, quindi Tencent e Alibaba, che coprono da sole più del 30% dell'ETF, tutto il resto, tutte le restanti posizioni per me che ricerco la grande diversificazione all'interno di un ETF, mi piace veramente tanto. Poi ovvio ci può anche stare che in un ETF incentrato sulla Cina e su Hong Kong è normale che Tencent e Alibaba la facciano veramente da padrona, ma tutte quante le altre aziende all'interno sono interessanti, vi consiglio come sempre di andare a spulciarvi poi l'ETF singolarmente all'interno del sito della società che lo ha emesso. Passiamo al secondo ETF, in questo caso un ETF di iShares, che voi lo sapete che io ho un amore profondo per iShares. Dunque, il fondo mira a replicare il più fedemente possibile l'andamento di un indice composto dalle 50 delle maggiori società cinesi quotate all'interno della borsa di Hong Kong, quindi in questo caso avremo un portafoglio molto più ristretto rispetto al precedente. Per quanto riguarda le dimensioni, anche in questo caso nulla di eccezionali, leggermente più piccole rispetto al primo ETF, però come prima ci può anche stare, visto che comunque non ci sono degli ETF tanto più grandi di così, a parte poi il terzo, ma quello lo andremo a vedere successivamente. Per quanto riguarda i rendimenti, i rendimenti sono un po' meno importanti rispetto al primo ETF, questo è vero, perché è vero abbiamo un più 8,54 del 2021, un più 10,10 del 2020, un più 13,75 e un meno 12,45 nel 2018. Sono meno importanti del primo ETF, ma comunque ugualmente interessanti, dato che comunque stiamo parlando di un ETF settoriale e visto il ruolo che ha assunto in questo momento la Cina, diciamo mille volte all'interno dei nostri video, beh, vale la pena di prenderlo in considerazione nell'ottica di un lungo periodo. Per quanto riguarda invece i dati importanti che dovremmo conoscere per quanto riguarda l'ETF, a mio parere, le cose più importanti, si tratta di un ETF del 2004, quindi abbiamo più di 15 anni di storico a poter fare affidamento, che è veramente tanto, soprattutto per un ETF di questo tipo, quindi si tratta di un grandissimo punto a favore. Si tratta di un ETF anche in questo caso a distribuzione, quindi per una logica di portafoglio a distribuzione è ottimo, ma attenzione, ha un TER veramente, veramente alto, perché stiamo parlando di un TER dello 0,74% rispetto al TER dello 0,30%, che, ragazzi, che cosa vi devo dire? È più alto della media, è nella fascia medio-alta, più alta che media, però ha questo tipo di costi. Per quanto riguarda invece la replica, anche in questo caso è diretta e io non posso che esserne felice. Andiamo sulla diversificazione. La diversificazione geografica, neanche mi soffermo, mentre su quella settoriale è il motivo per cui io vi voglio proporre questo ETF, perché, come vedete, il TEC in questo caso è molto, molto più inferiore rispetto al precedente, che praticamente copriva più del 35% dell'ETF, se non ricordo male. In questo caso il TEC è soltanto del 13,35% e i beni di consumo e il settore finanziario la fanno veramente da patrona, ma comunque ci sono anche altri settori. È il motivo per cui vi voglio proporre questo ETF, che devo dirlo, mi piace veramente moltissimo. Stessa cosa però non posso dire per quanto riguarda la diversificazione di portafoglio. Stiamo parlando di 50 aziende, come abbiamo detto già all'inizio, ma perché era l'obiettivo dell'ETF riprodurre le 50 aziende, però devo essere sincero, la prima azienda fa il 10%, la seconda il 9,54%, la terza l'8% e praticamente insieme abbiamo coperto già il 30% nelle prime tre posizioni, poi è vero che le altre calano, però non è così diversificata come la precedente. Per quanto riguarda invece il terzo ETF, andiamo su Xtrek, che era anche questo che mi piace veramente, veramente tanto. L'obiettivo di investimento del fondo è quello di replicare la performance dell'indice CSI 300, che riflette la performance delle azioni di 300 società quotate alla borsa di Shanghai e alla borsa di Shenzhen. Per quanto riguarda le dimensioni, ecco, in questo caso sono perfette, perché stiamo parlando di un miliardo e quattro, un miliardo quasi e mezzo, quindi veramente, veramente grande in questo caso. E beh, per quanto riguarda i rendimenti, li vediamo subito e devo aggiungere altro, io sarei un po' spaventato da rendimenti così alti, devo essere sincero, però stanno andando veramente molto bene. Il 2021 ha fatto un più 4%, il 2020 45%, che è tantissimo, compreso il 2019, che è il 41,90%, anche in questo caso è enorme, mentre per il 2018 un meno 24,28%. Per quanto riguarda i dati invece più importanti da prendere in considerazione, la data di creazione dell'ETF è stata del 2012, quindi non male, 8 anni di storico, ormai quasi 9 anni di storico, e ha una politica di dividendi a capitalizzazione, quindi ad accumulazione. Ecco, se si è dalla ricerca di un ETF gratuito sul De Giro, per una logica all'accumulazione che prende in considerazione i settori Cina e Hong Kong, assolutamente prende in considerazione questo ETF. A costo però di un TER relativamente alto, perché stiamo parlando dello 0,50%, quindi il medio sarebbe 0,4, poco più della media, non si può definire altissimo, ma insomma neanche tanto, non è propriamente quello che vada a ricercare, così come non vada a ricercare la replica, che in questo caso è sintetica e non è diretta. Per quanto riguarda invece la diversificazione di portafoglio, ovviamente come dicevo Track Insight non sempre copre totalmente tutte quante le informazioni che ci sono necessarie, come in questo caso, quindi è importantissimo andare sul sito dell'emittente dell'ETF, in questo caso Track Insight, e andare a scaricare quelle che sono le posizioni aperte. In questo caso, come vi dicevo, 300 aziende e devo essere sincero, la diversificazione è davvero davvero notevole, vi zoomo perché non sono sicuro che voi riusciate a guardarlo, questa è la diversificazione delle prime aziende e devo dire la verità ragazzi, cioè stiamo parlando di una diversificazione veramente ampia che è ottima per me che io vada a ricercare la diversificazione, come già sapete. Quindi, per ricapitolare un po' in generale come si potrebbe investire sulla Cina e Hong Kong in maniera gratuita per quanto riguarda le commissioni su DeGiro. Partiamo dal primo ETF. Il primo ETF a mio parere è molto molto interessante se vi interessa la distribuzione prendere in considerazione questo, mentre il secondo ETF se voglio più una diversificazione settoriale sempre però con una logica di distribuzione, mentre il terzo ETF che praticamente è l'unico che ho trovato che esegue una logica l'unico che ho trovato per quanto riguarda dei giusti parametri qualitativi che ha le ETF per quanto riguarda una strategia di accumulazione del capitale. Io ragazzi vi ringrazio sicuramente tanto per aver guardato questo video, fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate se credete che investire in un ETF come la Cina o quello di Hong Kong potrebbe essere una strategia interessante. Per adesso vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi e buon dividendo a tutti. e buon dividendo a tutti.